ciao a tutti amici del capricorno benvenuti i nuovi e bentornati agli iscritti io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra spiritualità e quant'altro possa essere utile ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami capricorno tendenze energetiche affettive grazie abbiamo la carta della temperanza amici del capricorno la carta la temperanza parla di equilibrio parla parla di guarigione anche di quello che il portare in equilibrio la mente e il cuore quindi è una guarigione sia da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista mentale ed emotivo andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa parla la temperanza intanto vi ricordo che sono letture generali quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare al resto all'universo se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare e in descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e per chi volesse contattarmi trovate anche la mia email il tipo di lettura che sto facendo adesso va a vedere i movimenti energetici affettivi a 360 gradi quindi comprende quelli familiari quelli di amicizia quelli romantici e quelli lavorativi mi invito quindi a rimanere fino alla fine del video perché estrarrò qualche carta per i single qualche carta per le persone che sono in una relazione e estrarò anche delle carte per le persone che hanno una relazione diciamo a distanza oppure che in questo momento sono in separazione o in una relazione clandestina bene allora iniziamo con un fante di bastoni dopodiché abbiamo un cavaliere di pentacoli la carta della stella il fante di spade un 7 di spade un 5 di coppe e un 7 di pentacoli dunque questo fante di bastoni potrebbe essere una persona intorno a voi o qualche tipo di atteggiamento lo sento più come un atteggiamento in realtà giustamente avendo la temperanza qui che mi parla di guarigione mi parla di riequilibrio sento in un certo senso che qualcuno e vedendo anche lo sviluppo delle carte sto sento che c'è qualcuno che sta riacquisendo piano piano quello che è il proprio equilibrio quello che è l'entusiasmo per la vita la voglia di andare avanti la voglia di appassionarsi per quelli che sono i propri sogni i propri desideri ok sia la stella che la carta della luna mi parlano comunque di guarigione quello che si mi vuole dire questo fante di spade se per esempio rappresentasse una persona potrebbe essere che c'è qualcuno e potrebbe fortemente essere un figlio visto che abbiamo due fanti che come oppure potrebbe anche essere una persona più giovane comunque rispetto a voi o dove avete una differenza d'età magari anche più grande di voi che tende a controllare ok c'è un set di spade qui quindi ci sono delle bugie di mezzo c'è qualche tipo di proiezione che si sta facendo e il 5 di coppia infatti mi dice che c'è una sorta di senso di colpa una sorta di delusione e con il 7 di pentacoli si termina la stesa esattamente come si inizia con la temperanza quindi con pazienza c'è una sorta di attesa questo procedere lento di cui ci parla il cavaliere di denari io lo sento molto anche alla fine della lettura questa carta che uscite in più è un 6 di spade e vi dico che comunque c'è la necessità di staccarsi da certi tipi di aspettative degli altri fondamentalmente magari può essere le aspettative dei genitori le aspettative del partner della partner dei fratelli di chi volete voi comunque dovete guardare quello che è importante per voi andiamo a vedere questo fante di bastoni per piacere grazie asso di spade 7 di coppe che è un'altra carta che mi parla di probabili illusioni qui c'è da tagliare con questo asso di spade come vi dicevo anche qua con qualche tipo di credenza l'asso di spade mi dice che o fate una chiacchierata con qualcuno che magicamente vi apre gli occhi perché comunque fa riferimento a una chiarezza mentale potrebbe essere proprio che questo fante di bastoni rappresenta una persona con la quale voi avete un confronto e che vi apre agli occhi vi faccio un po cadere tutte quelle che erano le illusioni ok andiamo avanti vediamo questo cavaliere di denari per piacere solo due carte abbiamo un 4 di coppe e un 2 di pentacoli sì io credo che ci sia la paura di pentirsi a fare un movimento netto e di conseguenza si sta lì un attimino si va con calma si cerca di tenere in piedi magari sono due relazioni o due situazioni diverse andiamo a vedere questo questa stella per piacere grazie abbiamo un 5 di spade al contrario e la carta della morte qui c'è c'è voglia di guarire in realtà ok la carta della temperanza parla di guarigione come vi dicevo già all'inizio parla anche gli angeli custodi e qui sento di nuovo che c'è questo desiderio per per una fine delle lotte che essendo un 5 di spade potrebbero essere lotte interiori ma anche lotte verbali con qualcuno magari appunto bc c litigi voglio andare a vedere questo fante di spade per piacere e grazie la forza il diavolo e la sacerdotessa qui c'è qualche tipo di condizionamento e c'è anche 7 di spade quindi sento che qualcuno è il fante di spade io credo che qui qualcuno non si senta libero di esprimere se stesso ma perché fondamentalmente non sia in contatti in contatto con se stessi di conseguenza non si può esprimere un concetto che non sia individuato se io non individuo un'emozione non posso dire io sono così sto così insomma la forza mi fa mi fa pensare che qualcuno qui non abbia il coraggio di cambiare le carte in tavola andiamo a vedere questo set di spade che cosa fa riferimento 10 di spade regina di spade allora potrebbe essere qualcuno qui questa regina di spade che potrebbe tranquillamente essere la stessa energia del fante di spade più avanti nel tempo e qui sento comunque che c'è una 10 di spade c'è una sofferenza qualcuno qui vi ha raccontato una bugia può darsi che all'inizio del periodo quindi all'inizio di giugno venga a galla questa bugia e che da lì poi nascano questo senso di delusione questo senso di voler tagliare io credo che qualcuno si renda conto qui del tipo di controllo di manipolazione che sta ricevendo perché comunque ho una sacerdotessa è quello il nocciolo della questione bisogna consapevolizzare per riuscire a guarire andiamo a vedere il 5 di coppe ho un 4 di bastoni al contrario e un cavaliere di coppe quindi qui c'è una delusione per quello che riguarda un'unione un compromesso un'offerta qualche cosa che in realtà il 4 di bastoni al contrario quindi mi fa pensare a un'unione che non sia poi così felice spensierata o che non sia ancora un'unione ufficializzata e che quindi credo che faccia riferimento al fatto che sia stato raccontato una cosa diversa da quello che poi è stata la realtà o verrà raccontato una cosa diversa da quello che poi è la realtà vi andrei a vedere questo set di pentacoli per piacere l'eremita lotto di coppe e guarda caso re di spade e regina di spade quanto pare potrebbe essere una coppia predestinata c'è un diavolo c'è un quadro di bastoni potreste essere anime karmiche alla fine della lettura c'è una sorta di attesa a livello concreto non credo farete movimenti però sì che li farete da un punto di vista interno questa sacerdotessa che c'è qui al centro io credo che vi dia la possibilità di fare quello che il vostro percorso interiore quello di trovare una una certa chiarezza mentale no che era quella di cui si parlava qui ma le cose hanno subito una piega hanno avuto una piega un movimento quindi sento che qui per molti energie quella di volersene andare e c'è anche sei di spade lì quello che vi consigliano le carte diciamo che fare una valutazione vostra fare quello che è un lavoro interno per riuscire a capire qual è la vostra verità qual è il vuoto che voi sentite perché comunque è vero ci sono re regina di spade e mi fa pensare a due persone che siano in diciamo in una forte connessione mentale perché le spade parlano proprio di quel tipo di connessione ma essendoci qui una figura di controllo una figura di condizionamento e controllo e tossicità ed essendoci anche il set di spade sento che qui potenzialmente potreste essere condizionati se non è l'altro l'altra che vi condiziona sono i vostri condizionamenti mentali dell'infanzia ok bene andiamo a vedere qualche messaggio in più per i single andiamo a vedere che altro riesco a dirvi guardate cosa si è girato sei di coppe va bene per i single cosa diciamo i single 5 di coppia un'altra volta abbiamo un 8 di bastoni al contrario un cavaliere di coppe al contrario un'altra volta è un 3 di coppe allora io credo che qui molti single siano un po tristi diciamo per queste 5 di coppe che c'è qui perché fondamentalmente non arriva una comunicazione non arriva quello che è un offerta quello che qui ma guardate sono uscite vicine anche qui nella stessa lettura c'è poi questo 3 di coppe che mi fa ben sperare in quello che è un incontro con questo cavaliere di coppe ma questo cavaliere di coppe io non sento che farà quel tipo di offerta che magari voi vi vi aspettate ok e potrebbe essere tranquillamente una persona che voi già conoscete magari non c'è mai stato niente magari non non c'è mai stato neanche quello che è il pensiero però qui si vede l'ingresso di una persona se non l'avete cioè se non la conoscete già e non avete proprio nessuno potrebbe essere che stia per entrare nella vostra vita ok però però io sento che invece molte persone la conoscono magari si sta sperando e quel tipo di comunicazione che voi vi aspettate non arriva c'è l'incontro magari vi incontrate per far festa incontrate al bar per andare a cena fuori insomma per qualche cerimonia però non diciamo che se fosse non lo so un incontro casuale non vi chiede il numero di telefono ok ma non c'è problema lo potete chiedere voi ok andiamo avanti vediamo per le persone che sono in una relazione stabile che messaggi abbiamo ok 8 di coppia è uscito un'altra volta re di spade uscito un'altra volta e qui abbiamo la carta della morte che è già uscita quindi più o meno sono le stesse carte ok di nuovo qui per le persone che sono in una relazione e questa in realtà la sentivo molto così bisogna fare qualche tipo di taglio che bisogna comunque lasciarsi indietro qualche cosa che è un po il taglio che vi consiglia questo questo asso di spade sento che è avendo la morte anche qui ragazzi c'è bisogno di lasciarsi indietro determinate cose che portano confusione mentale perché comunque poi avete il 10 di coppe a parte questa confusione mentale a parte questa guardate potrebbe anche parlarmi di flessibilità in realtà il re di spade al contrario anche se vi dico che tendenzialmente visto che comunque abbiamo diverse carte di controllo anche qui potrebbe fare riferimento a qualche tipo di manipolazione a livello familiare magari ok c'è bisogno in tutti e due i casi di prendere la propria strada di andare sono carte di viaggio proprio di spostamento fisico c'è bisogno di allontanarsi da questa situazione che sembra non finire ecco la morte la sento come un ciclo che non finisce e anche qui comunque abbiamo la parte della luna e scusate dell'otto di coppe che è rappresentato con questa luna che parla dei cicli lunari che si ripetono ok andiamo a vedere per le persone che sono a distanza piuttosto che in separazione o in una relazione clandestina prima vedere ancora tre messaggi per piacere grazie 6 di denari qui abbiamo un asso di denari quindi anche qui c'è un asso come di qua c'era l'asso di spade qui abbiamo un asso di denari parla comunque di inizi parla comunque di qualche cosa che inizia in modo concreto un nuovo tipo di percorso un nuovo tipo di possibilità se vogliamo essere di denari però è una carta che in questo caso mi parla di disequilibrio in qualche modo potrebbe essere a livello monetario per uno di voi due o per entrambe le persone anche se adesso siete in ognuno ha fatti i suoi piuttosto che semplicemente a distanza dieci di spade sette di bastoni e il bagatto quindi bagatto anche una carta numero uno parla di nuovi inizi io sento che in qualche modo guardate l'asso fa riferimento anche come chiusura ciclo inizio nuovo ciclo il dieci di spade è un dieci quindi chiusura ciclo e l'asso e scusate il bagatto il mago è un arcano numero uno quando quindi parla di inizio di cicli sento che comunque si va verso a un nuovo tipo di realtà nel prossimo periodo si va verso quello che il compimento di un ciclo si va verso quello che è la fine di una sofferenza di conseguenza di una rinascita c'è un set di bastoni di mezzo quindi vuol dire che ve la dovrete lottare ma poi avete il bagatto e questo mi rassicura nel senso che è come se io so che voi avete tutte le capacità per ricominciare da capo in questa relazione in questa situazione o al di fuori di questa situazione o relazione qui c'è la fine della sofferenza qui c'è l'allontanamento il percorso interiore ok per qualcuno è difficile a livello